Lettura, Vangelo e commento. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo, Signore, mi hai consegnato cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse, Signore, mi hai consegnato due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così? Ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, la sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore Lode a te, o Cristo Parole del Santo Padre L'uomo della parabola rappresenta Gesù. I servitori siamo noi e i talenti sono il patrimonio che il Signore affida a noi. Qual è il patrimonio? La sua parola, l'eucaristia, la fede nel Padre Celeste, il suo perdono, insomma, tante cose, i suoi beni più preziosi. Questo è il patrimonio che Lui ci affida. Non solo da custodire, ma da far crescere. Mentre nell'uso comune il termine e talento indica una spiccata qualità individuale, ad esempio talento nella musica, nello sport, eccetera. Nella parabola i talenti rappresentano i beni del Signore, che Lui ci affida perché li facciamo fruttare. La buca scavata nel terreno dallo servo malvagio e pigro indica la paura del rischio che blocca la creatività e la fecondità dell'amore. Perché la paura dei rischi dell'amore ci blocca? Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia in cassaforte. Non ci chiede questo Gesù, ma vuole che la usiamo a vantaggio degli altri. Tutti i beni che noi abbiamo ricevuto sono per darli agli altri, e così crescono. È come se ci dicesse, eccoti la mia misericordia, la mia tenerezza, il mio perdono, prendili e fanne largo uso. E noi che cosa ne abbiamo fatto? Chi abbiamo incontagiato con la nostra fede? Quante persone abbiamo incoraggiato con la nostra speranza? Quanto amore abbiamo condiviso con il nostro prossimo! Se questo video ti è stato utile, ti chiedo di iscriverti al canale, mettere un like e condividerlo con i tuoi amici. Grazie e a presto!